Questa settimana al teatro del Gile di Lucca è accaduto qualcosa di insolito. Di fronte al teatro a stracolmo non si sono presentati attori, bensì otto persone che non hanno recitato ma raccontato. Che cosa? La storia straordinaria dell'ex manifattura tabacchi di Lucca e questo lo hanno fatto con applausi a scena aperta perché la ex manifattura continua ad esistere seppur in nuove forme. Sigaraie, operai, amministrativi, tecnici, gente vera insomma e storia e storie vere. Hanno raccontato, sedotto, divertito il pubblico rendendo pubblica una storia privata e questa senza copione. Tutto questo è accaduto mentre emergeva proprio il luogo pubblico di eccellenza, la città e le sue relazioni con la sua grande fabbrica. Deborah Pioli ha pilotato il racconto con rara maestria ma al sindaco Tambellini il compito più difficile è quello di, come dire, rianimare questi 28 mila metri quadrati di spazio con le voci del terzo millennio con un dettaglio. Dietro le quinte nel corso della serata è sempre rimasta l'assessora all'urbanistica responsabile di questo progetto, Serena Mammini. Come dire, niente politici sul palco ma ascolto e questo non è cosa da poco.